Ha spinto i clienti più anziani e malati a fare investimenti inutili. La banca britannica HSBC sarà costretta a risarcirli e a pagare una maximulta pari a circa 11 milioni e mezzo di euro. Tra il 2005 e il 2010 avrebbe indotto investitori 8 a gennaio ad acquistare bond o fondi di investimento per ripagarsi le cure, cosa che non si è verificata nel 90% dei casi.